Samuel Stern numero 33, i giochi di Barney. Nice! Wabalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Samuel Stern. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che hanno nella soffitta, nella cameretta o nella cantina dei vecchi giocattoli e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo numero, di questo mio video e del finale, ovviamente cercando di non spiatterlarlo proprio davanti, magari scrivete spoiler, due punti, tanti spazi e poi commentate sul finale. Cercherò anche io di fare così, ovvero di parlare dell'ultima pagina un po' spoilerosa alla fine, ovviamente. Questo numero 33 è scritto da Filadoro, Fumasoli e Saveniago, la sacra trinità, o la diabolica trinità che dir si voglia, del Rosso di Edimburgo e i disegni sono di Pierluigi Minotti, la copertina è come sempre dell'altro trittico dell'altra trinità Piccioni di Vincenzo e Tanzillo e ci tenevo a dire, tutti questi autori, cosa che non faccio sempre perché sono una persona che lavora male in modo discontinuo ed è per questo che mi amate, ci tengo a dirlo perché questa storia, nonostante sia di Samuel Stern, mi ricorda tantissimo un'atmosfera tipicamente della distinta concorrenza, mi sembra tanto una storia di Dylan Dogg e non lo dico assolutamente in modo spregiativo, dato che ultimamente lo sappiamo, Dylan Dogg ha i suoi alti e bassi, dato che ultimamente lo sappiamo, quasi ci piace di più, senza quasi il modo, lo stile di Samuel Stern rispetto al concorrente londinese, ma lo dico anche con tutto il rispetto, anzi con tutta l'elevazione che si può dare perché questo numero mi ha ricordato proprio una storia tipica di Dylan Dogg, una storia di quelle che ti restano impresse perché grazie sempre anche al gioco dei disegni, dei chiaroscuri, delle forti distinzioni tra le ombre, i neri, i bianchi, che ci sono nella griglia abbastanza classica, anche qua sul Daryling, che tra l'altro sono in netta contrapposizione, invece come sempre con i flashback che sono molto patinati, molto in scala di grigi. Comunque questa distinzione tra luce e ombre mi ha ricordato anche per questo motivo una storia classica di Dylan Dogg, ma l'altro motivo è proprio anche la narrazione, vediamo quasi un caso che viene dal protagonista, una discussione con il proprio mentor, in questo caso padre Duncan, che ricorda molto l'ispettore o il soprintendente Block, che dir si voglia, è un caso molto particolare, molto atipico, che porta poi il nostro protagonista come fulcro e catalizzatore di forze che noi non comprendiamo. C'è da dire che dopo Abisco, comunque le carte in tavola sono notevolmente cambiate e rispetto magari a una storia classica di Samuel Stern pre-Abisco, ora come ora è molto più difficile capire dove si andrà a parare nel finale di questa storia. E questa storia effettivamente ti mette un po' dei dubbi, si cerca di capire se questo Barney, appunto, questo fratello della persona che vendette il Daryling, o meglio che vendette il negozio ad Angus Daryling e che poi diventò la libreria Daryling, sia un malvagio oppure sia un agente del bene, lo si scopre mano a mano e si scopre mano a mano perché questo strano giocattolaio appunto abbia nella sua bottega dei giocattoli che assolutamente non sono in vendita se non per persone determinate, per persone per cui lui costruisce i giocattoli. Ma andiamo con ordine, dal momento appunto che in un certo senso Samuel Stern viene ingaggiato in un caso che non gli sembra assolutamente un caso tipico di possessione demoniaca ma gli sembra più che altro un caso appunto da indagatore dell'incubo dove ci sono una sorta di poltergeist porta sfiga che in questa strana famiglia, anzi in questa normalissima famiglia hanno iniziato a far accadere delle cose sfortunate una conseguente all'altra. Un primo bimbo che si fa male, un secondo bimbo che si fa male, il padre che cade dalle scale, il forno che si incendia e mille cose fanno pensare appunto che ci sia una sorta di maleficio nell'abitazione di questa famiglia e perché no è già successo, lo abbiamo visto nel numero 25, che ci sono anche delle entità che non per forza le ombre sono all'interno, si sono fermate all'interno delle persone ma sono diventate parte dei rapporti interpersonali tra le persone e si appiccicano all'ambiente come era appunto la muffa del numero 25. E qua poteva essere un caso simile ma nel momento in cui Samuel Stern entra nella casa non trova nulla di tutto ciò, non trova questa sensazione. Se non fosse che la trova quando apre una stanza e trova una vecchia trottola, una vecchia trottola che gli ricorda il suo passato. è un altro piccolo tassello in cui ci mostrano il passato di Samuel Stern e soprattutto ci tengono a spiegare che non è che Samuel Stern non si ricorda molto bene il suo passato, la sua giovinezza. Un altro punto in comune con Dylan Doga che non ricorda bene cos'è successo. Ha dei ricordi come quelli sulla spiaggia del numero 74, però non si sa che stava in orfanotrofio, poi nella nuova interpretazione appunto è stato adottato da Bloch, in quella vecchia non si sa, fatto sta che lui non si ricorda di essere appunto un bimbo del Settecento che è stato lanciato nei giorni nostri, queste cose non le ricorda. Quindi c'è un'altra piccola analogia con l'ibraio di Edimburgo, però ecco Samuel Stern qua ci tiene a specificare che lui non è che non ricorda bene il suo passato, anzi è come se avesse troppi ricordi. Sono talmente tanti che quando vuole aprire questa porta è talmente intasato di ricordi che non riesce ad accedervi, ecco se mi passate l'analogia. E forse questo potrebbe essere anche legato a quello che vediamo nella pagina finale. Io credo che i ricordi di Samuel siano nettamente legati anche a sua madre. Sua madre in questo numero pare, almeno a me è parso, che abbia lei stessa dei poteri, per come tratta Samuel, per come si comporta con le persone attorno a lei, per come percepisce anche lo stesso Barney, sembra che i poteri di Samuel non siano innati semplicemente in lui, ma anche nel ramo della sua famiglia. Io credo che sua madre non gli abbia detto alcune cose su di lui e sui suoi poteri. Io credo che sua madre possa centrare in qualche modo con i suoi poteri se non addirittura che, è qui azzardo, che sua madre potesse essere una persona come Isobel, ovvero una persona posseduta magari da un angelo e che appunto quando ha dato alla luce Samuel Stern in un certo senso gli ha passato il potere di catalizzatore di queste strane forze che ci sono attorno a lui. La storia di per sé, il caso della trottola e della famiglia sfortunata, sono un po' un pretesto narrativo per raccontare meglio quello che succederà nei prossimi numeri. Cioè, nonostante non è affatto un numero di raccordo, anzi, è un numero che ci mostra qualcosa di più sul protagonista, che aggiunge un altro tassello al puzzle della vita del protagonista e che appunto sposta il focus principale proprio su di lui. Se proprio dovessi trovare un difetto a questa storia, lo trovo magari nell'inizio, nel dialogo iniziale tra padre Duncan e Samuel stesso, in cui appunto discutono di nuovo di quello che è successo ad Abisco, di come padre Duncan si sente, di come non sia sicuro che quello che faccia sia giusto, sia abbastanza. Sembra, allora, è normalissimo, con una persona più anziana ovviamente, come padre Duncan, ritornare spesso sullo stesso discorso anche dopo che l'argomento è stato già affrontato, per carità. Ma dal punto di vista editoriale, sembra comunque che questa storia sia stata scritta per il post Abisco, ma che magari non abbia tenuto molto conto che in altri numeri, dove si doveva affrontare questo argomento, non si è affrontato, perché magari erano storie un pochino più generiche e poi messe in un contesto di continuity. Mentre, per quanto riguarda questo numero, dove in teoria il rapporto tra padre Duncan e Samuel dovrebbe essere più disteso, sembra quasi tornare a essere molto più critico per Abisco, che vi ricordo è successo nel numero 24, 23. Ecco, io questa discussione l'avrei messa un pochino più indietro, però ci sta che qua si ritorni, si riporti a galla al discorso, perché non è necessariamente un errore di continuity, anzi, serve a farlo ricordare al lettore e anche al lettore occasionale da Edicola, proprio in vista di quello che succederà nella finale di questo numero e nei prossimi numeri. Adesso devo andare appunto a parlare di quello che c'è nell'ultima pagina e di conseguenza fare spoiler e illazioni assurde, lucubrazioni mentali su quello che potrebbe essere, quindi se non avete ancora letto il numero, non ascoltate, perché spoiler tra 3, 2, 1. Allora, a quanto pare, Barney e suo fratello, in un certo senso, operano per il bene, imprigionano le apocalissi, ragazzi, le apocalissi che possono essere le apocalissi personali, a quanto pare, perché includono queste ombre che si muovono nell'etere in questi giocattoli per liberarle solo nel momento giusto. E, a quanto ho capito, la trottola di Samuel Stern, la trottola che Barney stava dando a Samuel Stern, la trottola per cui Samuel Stern a medesimo è stato attirato nel negozio di giocattoli, doveva essere destinata a lui già da bambino, perché in un dialogo più avanti Barney dice ho rimandato la tua apocalisse per un po'. Adesso che Samuel Stern, per una vicissitudine di eventi che non sono mai coincidenze in questo grande quadro della narrazione fantasy esoterica, si è, diciamo, riappropriato, ammesso che sia mai stata sua, della trottola. Quindi è un segno che l'apocalisse portata da questa trottola, che tra l'altro si è pure aperta ed è uscita questa nube nera, l'apocalisse per Samuel stia arrivando, così come appunto è narrato all'inizio da Fumasoli sul fatto che ci sarà una run che porterà a una serie di eventi apocalittici per l'appunto nei prossimi numeri. Quindi appunto Barney preservava un attimino le apocalisse in modo da non imprigionarle per sempre, ma quantomeno darle alla persona giusta nel momento giusto, tant'è che appunto evita di vendere un giocattolo a un tizio che entra e chiede semplicemente uno di questi giocattoli maledetti, tra virgolette. Quando poi queste versioni senza tempo di Barney e suo fratello che sono, sembrano parte di una setta ma in un certo senso sembrano solo due persone in diversi momenti del tempo, che è una cosa stranissima, una cosa un po' alla Tenet, ma mi ha intrigato davvero tanto. Io non pretendo che ci siano delle spiegazioni più che chiare su questa cosa, però mi piacerebbe che ne parlino ancora, che ci mostrino ancora altre versioni temporali di questi due soggetti. E insomma, quando liberano la maledizione di Samuel e la osservano, osservano il destino di Samuel, osservano un po' chi è Samuel, vedono delle persone nella sua vita. Vedono Cran, che tra l'altro nell'ultimo numero è disegnato come una sorta di Brad Pitt con i baffetti. Vedono Samuel, vedono quella che a me pare Penny, non c'è Padre Duncan, non c'è Angus, ma c'è Calia. Raga, io non so assolutamente cosa pensare di tutto questo. Io una volta chiesi agli autori per la presentazione di Calia, ma Calia in qualche modo è legata a Samuel Stern in una sorta di Bugs Comics Universe, una cosa un po' come la Marvel o come la DC Comics e giustamente mi è stato detto no, ma io stesso mentre facevo la domanda sapevo che era una stupidata perché quando mai un mondo fantasy può legarsi a un fumetto sia esoterico ma molto urbano, molto terra terra. E quindi io non non so cosa pensare da questa ultima tavola, il mio pensiero è che in un certo senso ci saranno magari dei crossover con Calia, però non so come ci saranno, non penso sia all'ennesimo omaggio come il poster di qualche tempo fa, un omaggio metanarrativo, io penso che in questo caso sia proprio parte della narrazione, i casi sono due, o cosa che per me sarebbe il top ma riconosco che sarebbe molto difficile da digerire, la terra dove vive Samuel Stern non è in realtà la nostra terra ma è semplicemente l'evoluzione futura della terra che era quella di che sarà quella di Calia, quindi la terra di Calia sarà un certo punto dell'evoluzione umana, più avanti nel nostro, nel presente ci sarà Samuel Stern. O un altro modo per dirlo è che si scoprirà a un certo punto che nel mondo di Samuel Stern, nel passato del mondo di Samuel Stern i demoni sono stati creati per qualche ragione perché appunto nell'epoca pre-cristiana pre-ebraica c'era appunto questo mondo fantasy che è quello di Calia. Sarebbe la cosa più interessante per me anche perché in questo numero si parla apertamente di stregoneria, si parla apertamente di Hecate che se siete fan di Buffy lo avete sicuramente già sentito dalla strega Amy e dalla strega Willow quindi e parlano anche di come Hecate sia in realtà non sia un'entità malvagia non sia un demone ma sia una divinità e qui per la prima volta si parla di civiltà pre-cristiane che furono assorbite o conquistate dal cristianesimo e che demonizzarono in un certo senso tutte le le religioni precedenti alla propria considerandole come appunto pagane e quindi demoniache. che da sempre la Wiccan il paganesimo è considerato nemico della cristianità ma era semplicemente la religione della natura precedente a quella del cristianesimo potrebbe esserci una cosa del genere ovvero i demoni gli angeli tutto ciò che vediamo con cui Samuel Sterna riesce a interagire in realtà sono parte di qualcosa di fantasy che può essere legato al passato di questa terra che appunto è la terra di Calia questa è la prima ipotesi che a me piacerebbe un sacco la seconda ipotesi molto più pulita e accettabile per come siamo abituati adesso a percepire le cose il multiverso a me non piace il discorso del multiverso io lo tiro in ballo lo tirerei in ballo solo se non ci sono altre alternative però ecco con il multiverso si può pensare che Samuel Sterna essendo un catalizzatore di mondi di ombre di luci eccetera possa andare in contatto con altre realtà con altri mondi tra cui il mondo di Calia tant'è che uno di questi barni o li chiamo così questi pelati morrente gli ha detto noi riusciamo a tenere in equilibrio in questo mondo le luci e le ombre non c'è niente di male nelle ombre non c'è niente di male nelle luci solitamente però in questo mondo le ombre sono il male in questo mondo le ombre sono il male quindi dà per scontato che ci sono altri mondi dove le ombre sono il bene e può essere anche un parallelismo tra appunto come nel contesto cattolico le religioni pagane sono il male ma in un contesto pagano le divinità pagane sono il bene quindi potrebbe esserci questa analogia e quindi Samuel Stern potrebbe andare in contatto con altri mondi quello di Kalia dove appunto l'entità demoniache legione eccetera non sono malvagi ma sono semplicemente dell'entità questa potrebbe essere la seconda ipotesi però sono tutte ipotesi molto molto nerda molto arzigogolate non voglio fare delle sovraletture anche perché davvero è semplicemente una tavola di un disegno una splash page finale che è fatta per dare spazio alle illazioni però ecco non vogliamo esagerare fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero e scrivete sotto le vostre teorie più disparate sulla pagina finale io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui che è un video molto lungo ovviamente rispetto al solito con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video vi ringrazio e vi ringrazio e vi ringrazio